Difficoltà di erezione, difficoltà sessuali e pilloline magiche. Voglio condividere qualche riflessione rispetto ad una cosa che sta succedendo sempre più frequentemente nel mio studio. Mi arrivano giovanissimi ragazzi che vanno dai 19 ai 25 ai 26 anni, che inevitabilmente sono alle prime esperienze, comunque ai primi approcci dal punto di vista sessuale o con qualche anno di esperienza poco più, e sono in difficoltà, sono in difficoltà perché spesso vanno in agitazione, non sanno come comportarsi, insomma succede che hanno una qualche defiance e molto spesso queste due defiance riguardano l'ejaculazione precoce piuttosto che una qualche disfunzione erettile, non nel vero senso della parola, nel senso che sono impossibilitati ad avere l'erezione, ma nel senso che la perdono, soprattutto non tanto nei preliminari quanto nell'atto o durante l'atto vero e proprio o nel momento della penetrazione. Quindi giustamente preoccupati, angosciati da quello che può succedere, molte volte preoccupati anche per il proseguo della relazione, perché molti temono di poter essere lasciati appunto a causa di queste fatiche, si rivolgono ad un medico, quindi cercano di capire cosa può essere utile e cosa non può essere utile. E quello che mi accorgo è che moltissimi medici prescrivono la famosa pillonina blu, Viagra, Cialis o chi per esso, che sicuramente ha il suo senso, non prescriverla a dei ventunenni, ha il suo senso per chi effettivamente ha questo tipo di difficoltà, ma che prescritta a dei ragazzi così giovani e che di fatto non soffrono di una disfunzione erettile, diventa delle tere, perché se uno va a fare un minimo di approfondimento su questo tipo di pillole, di questo tipo di farmaci, si accorge che non è che garantiscono l'erezione, ma permettono un mantenimento dell'erezione, una volta che l'erezione appunto in un qualche modo è perlomeno abbozzata. Quello che succede però ovviamente è che nel momento in cui questo farmaco viene assunto, c'è anche un effetto placebo, cioè c'è un effetto psicologico che agisce sulla testa, per cui convinto di poter avere l'erezione, il ragazzo di turno si libera da quelle che possono essere delle paure, è forte appunto dell'avere la pillola blu in tasca e quindi riesce ad avere dei rapporti sessuali. Il problema qual è? È che questa è una scappatoia, al di là che molti mi arrivano in terapia chiedendo di smettere questa cosa, perché si rendono conto che a 20 anni, 30 anni, non possono andare avanti per il resto della loro vita a ingerire queste pilloline, magari 8, 12, 24 ore prima di presumere di poter avere un rapporto. E due perché diventano, come dire, delle strategie, dei mezzucci che in qualche modo è come se permettessero di barare, vuol dire determinano qualche tipo di artificiosità nella relazione, nell'atto, perché è vero, si garantiscono l'erezione, è vero, sì, il 99% dei casi hanno l'effetto placebo, piuttosto che l'effetto farmacologico per il quale il farmaco viene assunto e quindi di fatto il rapporto viene portato a termine. Ma con che stato emotivo, con che spirito? Davvero riescono questi ragazzi a godersi la libertà dell'atto? Riescono davvero a perdersi in questo? O sono perennemente concentrati su chissà se riesco a mantenere l'erezione, chissà cosa succede adesso, chissà se riesco a comprare le pillole per la prossima volta? Magari questa volta mi è andata bene, ma la prossima volta sarò davvero capace di assumerlo e se mai non dovessi averle a disposizione riuscirei ad avere un rapporto? Ecco, queste sono tutte delle domande che se un ragazzo così giovane che non ha delle difficoltà di fatto erettili, nel senso che ha le erezioni notturne, riesce a masturbarsi tranquillamente, non ha, è chiaro che poi ci si trova in questa grossa difficoltà, soprattutto psicologica, per cui ci si convince che l'atto sessuale si potrà avere solo e esclusivamente attraverso la pillola. E questo è estremamente povero dal punto di vista emotivo, dal punto di vista mentale. E quindi per fortuna molti mi arrivano dicendo voglio imparare ad avere dei rapporti sessuali liberi da questo vincolo, liberi da questa prigione blu e voglio riuscire a godermi l'atto sessuale. Per fortuna molti di questi ragazzi arrivano da me, arrivano anche da colleghi sicuramente e vanno a chiedere questo tipo di aiuto, ma la mia riflessione è tutti gli altri, tutti gli altri che trovano il medico che gli prescrive con questa leggerezza la pillolina blu, convinto che poi questa cosa passerà da sola, che fine fanno e soprattutto che tipo di sessualità riusciranno mai a sviluppare, quale sarà il loro approccio sull'atto sessuale e sull'intimità stessa, sia con se stessi che con il partner. A mio avviso la sessualità va conosciuta, va esplorata, si deve sicuramente trovare il partner affine, per cui anche tutte queste cose vengono concesse, ci si riesce anche a conoscere, si riesce ad evolvere insieme, però ricorrere a delle pillole, a dei mezzucci, barare a vent'anni, a trent'anni nel tentativo di avere dei rapporti sessuali, magari nel breve termine paga, ma nel lungo termine diventa un problema.